Ieri sera è andato in onda su Rai 1 sabato, domenica e lunedì, il nuovo film di Edoardo De Angelis ispirato all'omonima commedia teatrale, opera teatrale, del maestro Edoardo De Filippo. Lo scorso Natale la Rai ci aveva regalato sempre per la regia di De Angelis Natale in Casa Cupiello, una trasposizione a mio modo di vedere meravigliosa, potete trovare la recensione sul canale se ve la foste persa, se vi dovesse interessare, una trasposizione meravigliosa di un capolavoro assoluto della storia del teatro italiano, del teatro partenopeo, forse la perla assoluta della carriera straordinaria di Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo che tornava a vivere, che tornava prorompente anche nelle nostre case, con un'interpretazione secondo me strepitosa da parte di Sergio Castellitto, che ci stupì anche un po', perché sappiamo assolutamente, sapevamo quanto Castellitto fosse un attore di alto livello, ma immaginarlo nei panni di un De Filippo, nei panni forse del suo personaggio più celebre, il protagonista di Natale in Casa Cupiello, interpretazione complessa, partenopea, lui che non è napoletano, il dialetto, l'accento, l'atteggiamento di quel personaggio così particolare, intricato e comunque di fama assoluta, beh, sicuramente non era facile immaginare un'interpretazione anche da parte di un grande attore come Sergio Castellitto in quel caso, beh, l'interpretazione fu, a mio modo di vedere, strepitosa. Quest'anno arriva il 14 dicembre, quindi arriva in prima serata, e adesso, proprio da ieri notte, potete trovarlo anche su RaiPlay, gratuitamente, tranquillamente, il secondo capitolo di questa trilogia, che riprende le opere di Edoardo De Filippo, e chissà se poi andrà avanti anche in futuro, uscirà sicuramente Non ti pago il 27 dicembre 2021, sempre sulla Rai, io avrei preferito magari il prossimo anno, per ovviamente godercelo all'anno prossimo, insomma, come spesso accade con le trilogie, però è interessante anche così, un po' la smetto quando voglio, il secondo e il terzo capitolo uscirono praticamente a distanza molto ravvicinate, poi chissà che in futuro, come dicevo, non possano esserci anche altri capitoli, perché le opere di De Filippo sono tantissime, tutte belle, importanti, celebri, e sarebbe bellissimo appunto che potessero continuare a rivivere tramite questo cinema, perché è il cinema puro, di Edoardo De Angelis, che magari arriva in televisione, arriva sulla Rai, che secondo me non sbaglia un colpo, è una rete televisiva di assoluto livello, che secondo me deve renderci tutti orgogliosi per i prodotti di qualità, di assoluta qualità che ci regala, e difficilmente, insomma, la Rai sbaglia, capita, perché tutti sbagliano, è raro Manu Mest, ma certamente la Rai, secondo me, rappresenta qualcosa di importante, è una risorsa importantissima, ecco. Sabato, domenica e lunedì, è ovviamente la storia della famiglia Priore, Peppino Priore e la moglie Rosa, che sono interpretati da Sergio Castellitto e Fabrizia Sacchi, nella Napoli di fine anni 50, del 1959, era ambientata proprio a fine anni 50, composta chiaramente in quell'epoca, l'opera originale di Edoardo De Filippo, che tra l'altro era stata già anche proposta dalla grandissima Lina Vermiuller, che ci ha lasciati qualche giorno fa, non l'ho ricordata su YouTube, su Instagram sì, ma la saluto adesso, ciao Lina grandissima, una regista eccezionale del nostro cinema, che ci ha regalato dei capolavori, film meravigliosi, che ci hanno regalato immense emozioni, quindi sicuramente se ne va un pezzo indelebile della nostra storia del cinema, con Sofia Loren in quel caso. Ritroviamo anche parte del cast che aveva secondo me svolto un lavoro perfetto in Natale in Casa Copiello, Sergio Castellitto, l'istraordinario qui ve lo anticipo, straordinario forse, posso dire allo stesso modo, ma ci sono poi chiaramente delle differenze da puntualizzare e tra poco ve le dirò, torna Adriano Pantaleo, che secondo me era stato forse veramente la ciliegina sulla torta di Natale in Casa Copiello, posso dire anche un po' la rivelazione, non perché non fossimo già consci della sua bravura e delle sue potenzialità, attore molto bravo, che è già da giovanissimo, ecco io speriamo che me la cavo, abbiamo citato Lina, e forse è uno dei suoi film più belli, più celebri, meraviglioso, io speriamo che me la cavo con Paolo Villaggio, uno dei tanti ragazzi era proprio Adriano Pantaleo, insieme a Ciro Esposito e tanti altri che poi sono cresciuti, alcuni hanno continuato, altri no, Pantaleo grazie a Dio sì, ci ha regalato delle bellissime interpretazioni, Natale in Casa Copiello forse è la migliore della sua carriera e adesso posso dire che anche qui sicuramente non ci ha delusi, anche Tony Laudadio, torna anche lui, che era stato molto convincente in Natale in Casa Copiello. E poi Fabrizia Sacchi, come detto nei panni di Rosa Priora, la moglie di Peppino, ma anche per esempio la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano, che a mio modo di vedere quando prende parte, insomma, a questi film, ma anche con delle cornici meravigliose, napoletane, partenopee, lei che è una caratterista partenopea meravigliosa, dà veramente il meglio di sé. Che dire, Natale in Casa Copiello e faccio un paragone perché è una trilogia, quindi cercherò di non proporre troppi parallelismi, ma mi viene quasi naturale, perché l'ambientazione è simile, perché l'atmosfera è quella, perché i toni, i caratteri, le modalità sono quelle ed è tutto bellissimo, quindi mi viene anche naturale, spontaneo. Beh, Natale in Casa Copiello era meraviglioso, secondo me era un film splendido, una trasposizione, posso dire, perfetta, comunque ottimale, di un prodotto veramente, di un'opera teatrale chiaramente passata alla storia, un capolavoro del nostro teatro, beh, era un film meraviglioso che avevo inserito anche nella top ten dello scorso anno e chissà che non possa finire anche nella top ten di quest'anno sabato, domenica e lunedì, vediamo perché quest'anno è particolare, sono film diversi tra loro, cinema, televisione, On Demand, è un anno incasinatissimo anche per i film che devo recuperare, che recupererò dopo Natale, le ultime uscite fino al 30 dicembre, supereroi di Paolo Genovese, ma anche Fratelli De Filippo di Sergio Robini che uscirà, se non vado a rato, il 29 sulla Rai, Rai che continua a produrre anche film molto de-filippiani, sicuramente, sicuramente Scarpetta De Filippo, i toni sono quelli, dopo quel capolavoro che è Quirido Io di Mario Martone che mi sono goduto al cinema e che sicuramente sarà nella mia top, non dico altro, ma la recensione già faceva capire tutto, beh, Fratelli De Filippo di Rubini sarà un altro film importantissimo in questo senso, ma so che ho aperto troppe parentesi, dicevo, Natale in Casa Copiale era meraviglioso, questo è sicuramente un bel film, mi è molto piaciuto, veramente un ottimo prodotto, Edoardo De Angelis si conferma, perché lo conoscevamo anche prima di questa trilogia, adesso giunta al secondo capitolo, che tra poco vedrà anche il terzo nello stesso anno, ripeto, il 27 dicembre, non ti pago, ma credo che abbia anche aggiunto qualcosina alla sua carriera, come detto già ottima, dimostrando la sua bravura, la sua poliedricità, la sua duttilità, il suo essere eclettico con questi film, appunto, che riprendono opere importantissime, celebri di Edoardo De Filippo, è un bel film, ottimo film, ottimo prodotto, ecco, forse l'ambientazione a livello proprio di scenografia me l'aspettavo un po' più fedele, me l'aspettavo un po' più convincente, perché Natale in Casa Copiello aveva veramente un'ambientazione meravigliosa, sia per la scenografia e questa neve a Napoli che non ti aspetti, ma che effettivamente c'è a Natale, e poi tutto il resto, ovviamente, parte centrale, fondante, il cast, che anche qui non delude, qui, a livello di ambientazione e di scenografia mi aspettavo qualcosina di più, ma poi, se c'è magari un piccolo vuoto, appunto, che magari porta questa ambientazione secondo me non perfetta, viene assolutamente colmato da due aspetti fondamentali, che sono la sceneggiatura, che riprende e adatta al meglio per la televisione, ma ripeto, è cinema, quest'opera bellissima di De Filippo, comunque molto importante, anche questa molto conosciuta, e poi il cast, cast d'eccezione, con un Sergio Castellitto super, una Fabrizia Sacchi brava, certamente anche qui non devo farlo, lo faccio, il parallelismo, ma qui secondo me ci sta proprio per parlare dell'intesa, se dovessi pensare a quanto era stata pazzesca Marina Confalone in Natale in Casa Copiello, proponendo quell'intesa tipica del Edoardo De Filippo a teatro con le attrici meravigliose che hanno collaborato con lui, lì veramente non ci rifaceva rimpiangere, possiamo dirlo, non è un'esagerazione, era veramente una coppia pazzesca, qui forse Fabrizia Sacchi dà un po' meno, ma mi rendo anche conto che fosse un'attrice giusta, la conosciamo, molto brava da tanti anni, per interpretare quel tipo di ruolo donna rosa che in questa storia in particolare viene così accusata di tradimento, di adulterio dal marito Peppino quando in realtà forse non è vero niente, perché Peppino è un gelosone e in questi tre giorni insomma le farà le farà passare qualche guaio e quindi devo dire che insomma anche lei comunque è stata brava seppur magari l'intesa precedente dello scorso film fosse stata pazzesca e forse non a livello, e questa forse non è, non sia stata a livello, ma sono paragoni che faccio perché siamo all'interno di una trilogia e non perché ci siano effettivamente delle similitudini tra i film. De Angelis, ripeto, molto bravo, c'è una citazione finale interessantissima che è molto divertente che potrete scoprire proprio in una delle ultime scene del film in cui si autocita De Angelis ed è veramente molto divertente e così come divertentissimo il finale con una canzone stupenda che sentiamo e Fabrizio Sacchi che balla con la sua sensualità e femminilità poco prima si era detto beh ho 50 anni chi mi guarda più per più chi mi guarda più beh io la guardo da molto volentieri e Nunzia Schiano caratterista come detto eccezionale che dona quel qualcosina in più al film ma ho trovato anche oltre agli attori di esperienza molto bravi degli attori giovani molto interessanti Pantaleo come sempre molto bravo si vede un po' meno di Natale in Casa Cupiello ma anche qui veramente ottimo e funzionale ma Maria Veraratti molto brava è un talento anche lei della nostra recitazione insomma cast veramente ottimo sceneggiatura che funziona bene regia veramente ottima di un De Angelis che continua a non deludere a convincere al 100% Castellitto Super come dicevo prima possiamo paragonare le interpretazioni possiamo dire che siano di pari livello per quanto sia stato bravo Castellitto sì ma sono i ruoli forse sono anche le stesse opere ad avere impatti diversi perché sabato domenica e lunedì è un'opera importante bella di De Filippo assolutamente il ruolo importante e complesso forse addirittura più particolare è questo ma Natale in Casa Cupiello Lucari ovviamente quel ruolo è pazzesco da quando la moglie lo chiama appunto in questo modo la confalone nella trasposizione di De Angelis lui ovviamente si sveglia in questo Natale nevoso però di Napoli come detto rispetto a questo film è proprio un altro mondo ma è sempre De Filippo ed è un ruolo interpretato alla grande certamente non facile questo credo che sia palese e ho trovato una citazione forse involontaria ma che trovo anche in tante altre situazioni film serie opere eccetera a Giacomino Leopardi il sabato del villaggio in questo caso la domenica è il giorno più atteso perché si mangia il ragù perché si ritrovano tutti a pranzo tanti invitati tanti ospiti eccetera e poi puntualmente è il giorno in cui succedono i guai come dice un personaggio proprio del film mentre parla con il castellitto De Filippo della situazione non è un caso che le cose spiacevoli capitino quasi sempre di domenica capitano di domenica dice lui fosse stato un altro giorno forse non sarebbero successe e quindi noi aspettiamo 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 ma in realtà come ci dice Leopardi la vera felicità sta nell'attesa perché poi quando si arriva al giorno in questo caso succede un patatrack ma puntualmente domenica si pensa già a lunedì e quindi si affronterà una settimana lavorativa con immensa malinconia certamente la domenica non sarà stata bella e quindi i personaggi non l'avranno goduta come speravano è un carpe diem che non funziona una domenica sarà veramente molto molto frastornata e frastornante anche per noi spettatori divertentissima e tragicomica sabato e lunedì un po' più diciamo da cornici ma scoprirete sicuramente tutto ciò vedendo il film sabato e domenica e lunedì di Edoardo De Angelis vi do un 8 bel film Natale in Casa Copiello era meraviglioso questo è bello vedremo Non Ti Pago dal 27 dicembre su Rai 1 potete recuperare questo film gratuitamente liberamente tranquillamente sul Rai Play da stanotte e chissà chissà lo rivedrò mi piacerà di più mi ha convinto già tanto adesso e complimenti a De Angelis perché sta facendo rivivere Edoardo De Filippo che se lo merita il grande maestro del teatro partenopeo Viva il Cinema Italiano